gurulandia 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 ascolta gurulandia mi hai capito bene signore e signori benvenuti a una nuova puntata di gurulandia e oggi finalmente abbiamo un grande 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 della formula 1 e non diciamo del motorsport in generale diamo il benvenuto a robert kubica ciao a tutti grazie robert grazie mille per essere qui con noi prima di tutto e poi domenica esatto quindi hai sacrificato una domenica per gurulandia sono tutto l'anno in vacanza io lo dico sempre che sono tutto l'anno in vacanza bella fortuna meritata però scherzo quando fai di tuo lavoro passione del tuo lavoro è un vantaggio enorme assolutamente io ho voluto veramente con tutte le mie forze invitarti poi non mi avevi risposto mi hai risposto dopo tre mesi due mesi e mezzo sarà no 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 io social zero ah non li guardi no anche perché se guardi il mio profilo è quasi inesistente sì sì no vabbè comunque ti volevo fortemente perché secondo me la tua storia è bellissima merita di essere raccontata infatti ti chiedo un po' di partire però dagli albori ok cioè nel senso chi è Robert Kubica prima di quello che tutti noi conosce conosciamo no quindi la tua infanzia sei ovviamente polacco sì e voglio sapere un po' come è nata anche la tua passione per il motorsport insomma raccontaci un po' è lunga allora comunque che hai quattro anni con Revi giusto quattro anni e mezzo ho cominciato a guidare infatti quando uno mi chiede quanti anni ho adesso vabbè sono grande però in passato rispondevo quanti anni guido così li ingannavo un pochettino perché nessuno specialmente dal paese che arrivo dalla Polonia agli anni diciamo fine 80 inizio 90 era una cosa esotica cioè guidare come facevo io non era una cosa normale sì infatti anche più tardi quando correvo in kart ho cominciato a correre in kart a dieci anni solo a dieci anni perché in Polonia prima non si poteva avere la licenza quindi primo kart ho avuto intorno a sette anni e ho corso in Polonia per tre anni però era una cosa talmente esotica che anche quando a scuola dicevo che corro in kart che fai? sì sì non ci danno con le ragazze? no ma io guarda ero talmente contento io vivevo per quella cosa lì per me è stato posso dirlo primo amore ovviamente all'inizio era divertimento così hobby però poi si è passato un po' di anni correvo di qua correvo di là ho vinto sei titoli in Polonia ho cominciato a correre in Italia nel 98 è uno dei miei più grossi diciamo successi direi non della carriera perché alla fine carriera non è che l'ho fatta ma come no? no che carriera scusa se ti interrompo arriva l'unità arriva l'unità no finisco nel 98 sono stato primo straniero a vincere il campionato italiano della storia che è stato il campionato più difficile del mondo di go kart per me questo è forse il successo più grande che io ho avuto ovviamente di valore diverso ma per me è la cosa che mi fa sempre ti dà grande soddisfazione e mi fa emozionare anche adesso ma come è nata questa tua passione per il motorsport? infatti se si può fare un attimo un passo indietro no a quattro anni con cosa correvi? chi ti ha messo in questo mondo? allora per rendere cosa veloce passaggiavamo per Cracovia per il centro città dove sono nato e in vetrina di un negozio è rimasto una macchina con motore a scoppio praticamente era un jeep rosso e io mi sono attaccato alla vetrina poi i miei genitori mi hanno fatto entrare nel negozio per loro sfortuna o per mia fortuna la commessa del negozio mi ha fatto entrare in questa macchina praticamente sono rimasto là fino a chiusura che era un cinque ore era un periodo diciamo invernale novembre dicembre io sono nato 7 dicembre in Polonia c'è babbo natale il 6 dicembre natale tutto è mio padre ha sempre avuto nascosta passione per le macchine e praticamente mi hanno comprato questa macchina e ho cominciato a girare su un piazzale nel quartiere dove abitavo e praticamente su un piazzale mio padre mi metteva prendeva le bottiglie d'acqua si riempiva di sabbia e io giravo e è cominciato tutto così bellissimo bellissimo e tra l'altro poi ho avuto una seconda macchinina più grande che era replica di una vabbè si può dire un Porsche che correva in Le Mans proprio nei colori martini bellissimo e ho ritrovato quella macchinina e nel 2014 restaurata l'ho comprata e tra l'altro è vicino in queste zone e quando l'ho presa guarda sono quelle cose che ti fanno ritornare negli anni è bellissimo è emozionante tu hai fratelli o sorelle o figlio unico fortunatamente perché fortunatamente è perché io vengo da una famiglia all'epoca cioè normale benestante per livelli polacchi però se avevo fratello o sorella che magari volevano correre o comunque era più difficile e sarebbe difficile perché comunque motorsport è molto caro e quindi dico fortunatamente perché sono un po' falso egoista no 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 egoista perché oddio se quando sei pilota essere pilota specialmente di pista ti fa diventare egoista infatti apro parentesi chiudo quando sento piloti dire ah sono contento per quello che è un uomo X che è finito sul podio pazzissimo fino a un certo punto cioè è sotto i ruoli e non so io sono generazione sbagliata forse sì soprattutto il compagno di squadra ma che figura ma 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 sei pilota cioè essere pilota ti porta ad essere egoisti però io sempre avevo voluto avere fratello purtroppo non l'ho avuto quindi no dico per fortuna perché comunque è una frase anche detta da mia madre in passato alla fine mia mamma io dico sempre poteva avere delle gran case e siamo crescendo cioè io sono cresciuto in un appartamento di 47 metri quadri e andava tutto diciamo sul sul go kart esatto perché infatti è proprio questo che è una cosa interessante cioè interessante nel senso devi cioè se te puoi avere tutta la passione del mondo tutto il talento del mondo però purtroppo se non hai soldi avviare una carriera nel motorsport a giorno d'oggi è veramente complicato è veramente difficile sì a giorno d'oggi forse è più difficile di quando lo è anche di più adesso però la verità anche che vedi io sono arrivato in Italia con un furgoncino mio padre io meccanico tipo meccanico bravo molto bravo però noi ci mettevamo per cambiare la sale 45 minuti team ufficiali cambiavamo in 7 6 minuti e era tutto un altro livello però per dire dei soldi che sono molto importanti io sono diventato un po' non dico famoso ma uno diverso perché correvo io sono arrivato in Italia vedevo tutti questi caschi verniciati belli colori bellissimi brillanti tutto è mio padre casco bianco e mi diceva sempre preferisco comprarti due treni gomme che farti fighetto della situazione infatti ho corso due anni ho vinto due volte il campionato italiano il campionato tedesco finito secondo in europeo casco bianco grande alla faccia di chi magari era come se fosse un biglietto di visita quindi comunque la tua famiglia ti ha sempre supportato al cento per cento alla grandissima senza di loro sicuramente non sarei qua e a che te sono arrivati i primi sponsor perché quelli penso sono fondamentali per poi diciamo fare arrivare a livelli più alti certo allora la verità è che io sono stato fortunato bravo forse bravino io dico sempre che quei anni 98-99 ero forse sono stati i miei migliori anni da pilota e che ero molto più bravo cartista che poi formulista la penso così per diversi motivi secondo me io ho cominciato a vivere in Italia molto presto senza mia famiglia praticamente da 13-14 anni all'inizio stavo con una famiglia di un team di un proprietario del team che non correvo per loro sì è che lui mi voleva far correre ma non aveva possibilità io non avevo comunque i soldi e alla fine io ho corso tre gare in Italia da privato e poi è arrivata CRG che è una delle quattro case diciamo più grandi del karting tra l'altro italiana che mi ha offerto di correre gratis ma perché non potevamo più permetterci di correre all'estero anche se eravamo una famiglia benestante comunque le gare erano costosissime e mio padre ovviamente faceva veramente tutto al massimo livelli però meno male è arrivata CRG perché si parlava che io poi dovevo forse fermarmi addirittura i miei genitori hanno preso un mutuo alla banca per farmi correre cioè è diventato quasi un po' troppo estrema la cosa sentivi un po' questa pressione no io non ero consapevole come non ero consapevole di essere bravo è la verità mio padre c'è c'è dei miti diciamo su Verstappen che suo padre è stato molto duro io quando sento le storie di padre di Jos che padre di Max di Verstappen più o meno no eravamo lì e meno male io sono arrivato prima gara in Italia e mi ricordo era Ugento che è praticamente il tallone dell'Italia giù vicino Santa Maria di Leuca se non sbaglio e 2500 km di un furgone prima siamo andati fare i test perché venivo in Italia durante inverno tra Natale e Capodanno a fare test quando non avevo scuola e incontravo altri piloti no ma una volta mi ricordo eravamo proprio un mese due mesi prima della prima gara siamo andati Ugento e girava sto pilota che era Alessandro Pierguidi la storia è bellissima perché lui girava e io sai che quando nella testa io conosco sto qua perché potevo conoscere perché mio padre c'è un giornale c'era un giornale Vroom era specializzato Vroom per veri intenditori di Go-Kart noi mio padre praticamente non so come si dice ha preso abbonamento l'abbonamento mensile sì bravo che praticamente ci arrivava tipo due mesi dopo e io non è che parlavo italiano non è che leggevo però sfogliavo guardavo le foto e io dicevo io sto qua conosco e giravamo più o meno lì così vicino e Alessandro a quell'epoca era un po' più citotello io non mi ricordo quando tornavo a casa era là per la testa io dicevo ma questo ma questo lo conosco arrivato a casa sfogliato tutti Vroom e l'ho beccato era praticamente campione italiano dell'anno prima nazionale e mio padre ma non lo vedi era un cicciotto ma no ma questo mio padre è ben consapevole però non voleva mai crearmi aspettative infatti io sono andato prima gara a Uggento sperando di poter qualificarmi nel primi 34 nell'andare finale e poi ha vinto il campionato italiano sì a quella gara poi tornati là siamo andati con praticamente un motore avevamo affittato altri motori da un rivenditore di Tony Card da Danimarca ma non andava un gran che un motore e per preservare motore in prove libere praticamente ingrassavo fino al rettilino c'era un curvone che si poteva fare in pieno ma io ingrassavo e qualifica vado in qualifica nervoso teso mi sono dimenticato di non ingrassare più quindi perdevo un decimo due decimi finisco qualifica vai in parco chiuso c'è la pesa non c'è più non c'era all'epoca non c'era lifetiming tablet nessuno sapeva niente c'era mi ricordo spingi go kart dalla pesa e vedi sto monico che era una tv io mi ricordo che parto da sotto c'era un tipo tre monitor e io parto da giù salgo 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 cerco il mio nome arrivo tipo nei dieci dico non ci sono non ho visto vado di nuovo giù quando arrivo ero quinto me lo ricordo come se fosse sento mio padre urlare lo ha sentito mezzo paddock ma che hai fatto ma sei deficiente perché io ingrassavo ma io non ero consapevo fatto sta secondo turno di qualifiche puoi montare solo due gomme nuove quindi svantaggiato unico a migliorare il tempo uno dei pochi ero io pole position grande poi finito secondo tuo padre però era uno che un po' di pressione te la metteva era duro ma meno male ma magari ti è servito sicuramente quando vedo i ragazzini di oggi ovviamente i tempi sono cambiati ma no al di là di quello 12 anni si scrivono su instagram future f1 drive senti dove vuoi il core in 4 anni forma 1 oh calma anche perché è troppo rischioso creare così tante aspettative secondo me è troppo rischioso alla fine ci si dimentica che uno che ha 12 13 anni è sempre un bambino e come vive emozioni anche lui sconfitte probabilmente le vive ancora di più non avendo l'esperienza quindi è parecchio rischioso questo è vero poi dal momento in cui sei venuto in Italia diciamo che c'è qual è il tuo rapporto con l'Italia perché poi sei sempre rimasto qua effettivamente sì alla fine ho corso tanti anni in Italia al di là di go kart che poi l'italiano ormai lo parli come un italiano forse meglio del polacco purtroppo o per fortuna sì al fine CRG sono stato due anni poi sono andato in birre un'altra casa costruttrice di go kart a Lissone vicino a Monza e là praticamente stavo in appartamento del capo sette mesi in fabbrica a fare tutto tutto e di più anche nulla però alla fine vivevo di quello la mia passione io per me go kart era la massima della categoria fatto sta che quando mio padre ha detto che c'è una possibilità di fare forma Renault nel 2001 io dopo anno 2000 avevi 17 anni no neanche 16 che all'epoca era molto presto ora 16 anni sono tutti in forma 4 però all'epoca era presto ma io 2000 non ho fatto gran anno e mi sono messo a piangere io non voglio andare via a go kart ti piaceva proprio sì sì go kart è una passione che ti è rimasta tuttora ci vai sempre comunque quando puoi no purtroppo di meno anche perché con il limite diciamo fisico è dura i go kart sono veramente un sport estremo è distruttivo se non hai tempo di andarci una volta a settimana una volta ogni due settimane se ci metto adesso il giorno dopo ma anche io mi ricordo devastato non mi alzo qualche anno fa andavo anche io sui go kart che poi ti raccontavo ma anche io dopo una giornata sui go kart davvero il giorno dopo ti fa male tutto è distrutto è massacrante veramente perché poi la gente pensa che il go kart chi magari non è del settore pensa che sia un po' dei giocattolini delle macchinine invece guarda che il go kart è veramente tosto e poi estremo cioè veramente per andare forte è un sport bello perché lo può praticare chiunque cioè se parliamo poi magari di rally di formule non è più così accessibile invece il go kart alla fine chiunque può provarlo chiunque può avere quell'adrenalina che è tantissima alla fine perché velocità non sono altissime ma quello che si trasmette è la strusci la cecina per andare forte tante volte la strusci e infatti a che velocità arrivano go kart allora velocità più alte c'era un circuito car all che era un circuito quasi da moto ci sono state gare di europeo mondiale con 125 all'epoca kz quindi a marce arrivavano 180 all'ora poi ci sono super kart in inghilterra che corron che sono un po' mezze carenate che là hanno motori da 250 arrivano 260 però mi piacciono meno quello gli devi stare attento perché poi faccio una domanda da ignorante faccio una premessa che io non sono molto affermato molto afferrato diciamo nel tema perché hai deciso di venire in Italia di tutti i posti alla fine non è che ho deciso io a inizio mi sono ritrovato qua perché il campionato italiano e praticamente case costruttrici più grande case costruttrici di go kart sono in Italia ora è cambiato un po' l'andazzo Italia il campionato italiano non è più così alto livello ci sono però tantissime gare in Italia poi alla fine non ho finito finito diciamo anni di go kart io ho firmato un contratto con RC Motorsport un altro team italiano e base a Nibbiola vicino Novara e vivevo là anzi primo anno vivevo in officina c'era sopra uffici eravamo io un altro meccanico che tra l'altro lo vedo ancora in paddock di WEC che è bellissimo e un altro ingegnere argentino che stavamo là quindi praticamente mi svegliamo in officina mi addormentavo in officina e avevo chiaramente mi ho letto però stavo là in officina e alla fine sono stato io ho corso praticamente dal 98 al 2000 fine 2003 sempre con team italiani quindi era una cosa diciamo normale poi sono tornato in Polonia e quando nel 2006 ho firmato con BMW Sauber per essere terzo pilota in forma 1 in Polonia non ci potevo più stare paparazzi gente nascondeva sei un eroe nazionale e te sei l'unico polacco della storia penso ad aver corso un Formula 1 cioè nessuno prima di te ci è riuscito ma io ti dico io da bambino non vedevo neanche Formula 1 in tv non c'era in Polonia unica gara che vedevo da bambino 96 forse campionato turismo inglese bellissimo che era altissimo livello ma attenzione era anno 96 ma io vedevo campionato del 95 ah cioè l'anno dopo però non sapevi i risultati quindi alla fine no no che sapevo era bellissimo uguale esatto hai detto di quando BMW Sauber ti ha chiamato ti ha proposto di essere il loro terzo pilota ecco quel momento lì cosa ti è venuto in mente com'è successo allora è tutto partito perché lì è un po' la consacrazione di un sogno fondamentalmente sì sì è grande infatti fai delle cose che praticamente firmi in bianco cioè qualsiasi cosa ti offrono tutto e tutto partito dal 2005 io ho vinto il campionato World Series by Renault era praticamente un campionato pari a oggi Formula 2 a GP2 sì è passato GP2 era Formula 2 sì sì praticamente era pari anzi forse World Series andava anche più forte avere vinto Renault ti offriva un test test conforme a 1 io mi ricordo stavo in Polonia inizio dicembre parto per Barcellona per il test ma io andavo così per gioco perché diceva figurati polacco nessun sponsor tu mi hai chiesto come ti chiami scusa Walter io sono Walter e praticamente mi avevi chiesto del primo sponsor io alla fine non ho avuto veramente sponsor polacchi nemmeno sponsor allora ho avuto 2000 Red Bull che mi ha dato Red Bull Polonia mi ha dato 4 spiccioli poi però sono arrivati tempi duri non riuscendo a trovare sponsor ho trovato investitori che all'epoca era una roba difficilissima ma come funziona ti contattano loro no no praticamente erano ex soci del mio padre del lavoro dell'azienda e loro c'è gente che praticamente ti dà soldi ma investe in te non è una non è una pura sponsorizzazione e te per un tot di tempo devi dare una percentuale sì praticamente poi investono in te ma attenzione quell'investimento nei anni 2003 così era pari a che riusciva a nullo cioè impossibile che che poi sarebbe sì insomma un rischio bello alto però poi se succede e alla fine io parto per quel test così un po' non un po' per gioco però arrivo là giorno prima vado intorno alla pista con il mio ex manager Daniele Morelli che alla fine è quello che a inizio 2001 ha contattato mio padre mi ha fatto fare i test e poi praticamente mi ha fatto fare mi ha fatto debuttare in formula e là ho avuto primo vero sponsor che era Zepter pentole ok ok basta che paga e praticamente ho corso la grazie a loro e mi ricordo andiamo a barcelona ultima curva passa qualcuno adesso forse Red Bull o qualcuno comunque no 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 Red Bull forse Red Bull va bene fa niente io mi ricordo la scena guardo Daniele e dico ma io non sarò in grado di fare queste robe perché effetto a barcelona l'ultima curva che ti dite il curvone adesso perché poi quando io corso ora c'è la chicane no da quest'anno di nuovo curva ah c'è di nuovo curva sì sì era proprio una curva da da marziani io era una roba assurda per me per vederla fuori fatto sta mattina dopo salgo 15 giri e praticamente ero a posto e là che ho fatto veramente quei 20 giri che ho fatto mi hanno svoltato la carriera a quel punto potevo dire la carriera e se non fossi in quei 20 giri probabilmente sarei finito in giappone perché diciamo passaggio successivo da quello che facevo la gp2 ma ci voleva tipo un milione un milione e due io non avevo sponsor e e in giappone mi offrivano diventare pilota professionista per correre in giappone fatto sta mi contatta prima vostro ospite di passato Flavio per e io ho avuto già a che fare con con programma Renault si chiama Renault driver il team principal della Renault era avviatore io nel 2001 fine 2001 Renault compro mio contratto con Daniele Morelli e mi hanno inserito in questo programma fatto sta che cinque mesi mi hanno cacciato fuori e infatti e la storia bella non l'ho mai detto a Flavio che poi ci siamo rivisti anzi poi prima che lui è stato diciamo coinvolto in fattaccio dell'incidente singapore lui è sempre stato team principal da Renault io alla fine alla fine del 2009 quando BMW si è ritirata trattavo con Flavio per diventare pilota Renault nel 2010 e sono diventato purtroppo Flavio non c'era più però praticamente mi chiama mi poteva offrire un contratto da secondo test driver nullo anzi ovviamente sempre qualcosa però non era il massimo sì perché poi avevamo Covaline avevamo già i piloti ma tornando a Flavio voglio raccontare una cosa un mio amico tanti anni fa mi dicevo guarda mia madre mi ha fatto vedere sai madre vecchi tempi tagliamo articoli articoli di Flavio di una giornale non mi ricordo un giornale italiano che gli chiede della vita di così così e più grande sconfitta vincita sconfitta della vita privata è quella menageriale no e la risposta sua io sono rimasto spiazzato statua la sconfitta di non aver capito il talento di Cubisa nel qualche anno fa esatto lo sai che l'avevo letto anche in un altro intervisto non so se è la stessa o no queste cose sono cioè alla fine sai tu puoi vincere poi è però Flavio ne ha visto di piloti eh sì 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 è uno che comunque sa il fatto suo ha fatto questo punto di vista e quindi fatto sta che BMW Sauber mi contatta mi fanno andare a Inville che è la base diciamo telaistica la sede era divisa suddisa a Inville e Svizzera che BMW ha comprato il Sauber e diciamo motori erano fatti a Monaco di Baviera mi contattano io so un trucco cioè una cosa che loro praticamente le macchine erano molto piccole all'epoca hanno provato a mettere Alex Wurtz un pilota austriaco ma lui era tipo tre centimetri più alto di me e non ci stava io mia ragazza all'epoca io so eh dico a me mi ci vuole una scarpa elegante bassa no 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 anzi contrario alta ma perché non ti preoccupare io vado là prima primo incontro no tutto è sai all'epoca anche pantaloni un po' larghi tutto il cammino tutto un gobbo per non dare a Daniele chiedono la prima domanda che gli fanno al telefono quanto sono altri ovviamente Daniele dice un metro e ottanta quindi cinque centimetri in meno giusto per favorire un po' per non essere subito sai vado là vabbè parliamo torno mi dicono ci sentiamo torno a casa una settimana dopo mi chiamano vabbè vieni su vengo su Peter Sauber storica figura forma 1 grande rispetto per me uno dei più grandi di forma 1 non solo perché mi ha fatto correre ma veramente un appassionato tra l'altro anche finché ho fatto terzo in Alfa Romeo Sauber due anni fa lui veniva in pista non è cambiato niente Mario Tyson che è capo diciamo Motorsport BMW tutto a posto cioè contenti tutto a posto mi alzo per stringere la mano no e Peter Sauber ma non mi ti ti e io e Mario Tyson si va bene Peter fa no 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 chiamato giù mi prepara una scocca fortunatamente nuda perché fortunatamente perché in scocca c'hai tante centraline cablaggi tutto io ci entro dentro e gli dico li sparo come se fosse seduto sul divano a casa mese dopo arrivo a fare sedile non ci sto in macchina ma non ci sto veramente in macchina perché allora poi è finita che 2006 ho fatto circa 25 oltre 25 mila chilometri da terzo pilota che poi sono diventato ma comunque è roba si si ma aspetta in un anno si si all'epoca provavi tutto si no ma ogni settimana facevo gran premio terzo pilota che tra l'altro c'erano i simulatori all'epoca no è anche per quello no no ma era libero potevi fare adesso adesso non puoi più fare niente per abbassare i costi ma comunque spendo uno staglio di lo stesso uguale anzi forse di più però aspetta che non è finita quindi per starci dentro sta macchina no ma tranquillo guarda un numero mezzo scarpe più piccole se no toccavo sopra non potevo accelerare cioè accelerare potevo ma se rilasciavo mi si incastrava un numero mezzo più piccolo ginocchia contro la scocca sopra per far stare sedile sedile è carbonio duro per forza deve essere fatto sotto la misura però è duro perché se no con tutti i G si deformano però purtroppo non ci stava quando l'abbiamo fatto con carbonio quindi buco dentro la chiappa sinistra perché per forza ci doveva uscire l'angolo e la centralina che non potevamo più spostare non c'era spazio così per chiudere per quello che vi ho detto fai tutto non solo firmi in bianco fai di tutto infatti anno dopo 2007 faccio un road show sai road show sono esibizioni in Cina con BMW arrivo là all'ultimo mi fanno salire in macchina io dico la macchina dell'anno precedente io dico al meccanico ma perché non mi mettete il mio sedile mi guarda e dice è tutta roba tua come hai corso anno scorso ecco solo primo anno puoi fare ste robe no era una roba no ginocchia bello comodo insomma ma poi anche un numero in mezzo e in meno quello c'è ti levi le scarpe dopo no no ma sì ma no ma il ginocchia più che altro era un ginocchia che praticamente contro la scocca che ogni buco ogni cordolo che tu prendevi ma questo non influiva sulle tue prestazioni la scomodità li vai li vai cioè lì quando sei giovane senti nulla ma dovevo sapere la prima volta la primissima proprio che hai guidato la formula 1 che è una monoposto formula 1 cioè come era come te lo aspettavi come te lo immaginavi o qualcosa che non lo so non riusciamo neanche a capire se effettivamente non lo hai provato no alla fine tu hai toccato un argomento importante simulatore tu considera che io quella volta andavo non sapevo cosa aspettarmi l'unica cosa che giocavo a formula 1 era la playstation è chiaro un simulator è zero quindi non sai cosa aspettarti fatto sta che a barcelona giravamo 7 secondi più piano di forma 1 8 7 con war series uno dice 7 secondi io sono convinto primi giri ma è così io primi giri ero qua cioè mio cervello pensava di essere qua ma io ero già 2-3 metri più avanti perché non ce la facevo poi cervello è una roba impressionante penso poca gente veramente dà il peso e capisce quanto è impressionante e quanta capacità che si adatta velocemente a tante cose e non solo a guidare il forma 1 però la verità era che primi giri io ero spaessato e troppo accelerato e poi sono è la massima proprio poi sono entrati i simulatori io penso che una volta all'epoca io avevo mezza idea o comunque non solo la mia però alla fine io il simulatore primo vero simulatore di forma 1 ho guidato dopo che mi sono fatto male un attimo quanto è simile guidare il simulatore rispetto alla macchina vera allora sono sofisticati io non ho mai provato n'uno nell'altro allora la verità è se fossimo chiaro che ingegneri tendono è un mezzo che dà tanti vantaggi primo è vero che ti fa spendere tanti soldi perché anche i team di forma 1 quelli giusti hanno simulatori sono sviluppati tantissimi anni con un gruppo di persone dedicato dedicato ma non di tre persone 30 persone come fanno certi team è un budget veramente secondo me simulatore o si fa molto bene o è un mezzo che può portarti anche fuori strada perché ingegneri ci credono sempre a quella roba lì la secondo me la grossa pecca di forma 1 di oggi è che si dimentica che non sono simulazioni di simulatore o computer che guida la macchina è un umano e si va a esasperare e si va alla ricerca della performance spesso non capendo che il limite è umano e spesso tu ingegnere ha sempre tendenza di metterti un setup o comunque un pezzo sulla macchina che vede un miglioramento ma magari quel miglioramento ti leva a guidabilità che è quella che ti fa andare forte è sempre un compromesso non avendo il test ti ritrovi a dover credere solo ai numeri ma ai numeri quante volte tu senti guardi forma 1 quante volte tu senti ma non solo un team vari team vanno forte qua giorno dopo non vanno più e ti dicono non capiamo perché o la gente che si lamenta c'è sotto poi sovra poi quello tante volte è successo in passato che in galleria simulazioni i pezzi andavano meglio tu mettevi in macchina e no pensavi di andare 13 più forte invece vai uguale o più piano se abbiamo qua ore possiamo raccontare delle litigate con gli ingegneri perché alla fine si loro vedono carico aerodinamico più carico ma se io non riesco a usarlo se quel carico ce l'ho ma fra tre metri mi sparisce non puoi prevedere e tu vai è successo di incazzarti comunque tornando un attimo alla guida formula 1 poi mi si torna anche qua perché mi piace questo argomento ho sentito più volte ora non mi ricordo in quell'intervista particolare neanche di voglio pilota però che la prima volta che guidi una formula 1 la cosa che ti fa più impressione in assoluto non è tanto la velocità o l'accelerazione ma la frenata è vero cioè ti praticamente devi è come se tu ti lanci che non so 100 all'ora con la macchina stradale vai contro il muro più o meno cioè devi frenare dopo proprio che il tuo cervello è una cosa incredibile e la capacità frenante io dico che forma 1 quando molli acceleratore frena di più che una macchina stradale a inchiodare a inchiodare e perché perché c'hai carico aerodinamico cioè che una macchina stradale o anche macchine gt in pista hanno poco forma 1 sviluppa un carico aerodinamico pazzesco cioè una forma 1 ad oggi che pesa 800 kg che sono 200 kg in più di quello che quando ho iniziato io che è tantissimo però a 140 all'ora ti rimane appiccicata sul soffitto perché sviluppa più di del peso e quindi no è una roba pazzesca è giusto per dare un hai mai guidato una macchina da corsa da corsa no go kart ho visto la foto tua di whatsapp con quella macchina rossa che non è una no guido r8 ura lamborghini ferrari ok in strada in strada mai in pista no nel deserto magari vabbè deserto comunque ho spinto dai ho spinto lo si può dire per strada bisogna guidare piano nei limiti giusto però a dubai c'è bella pista dubai c'è bella pista però non sono ancora mai stato ci devo andare ci devo andare costava un sacco di soldi 2000 euro 15 mil vabbè però ne vale la pena no vabbè 2 euro 15 minuti non ne vale la pena ma una volta nella vita o fare vabbè una volta nella vita comunque forma 1 la frenata è una roba pazzesca quindi scusa c'è una preparazione a livello fisico errore di principiante qua e tu vibra vibra aia aia ma ti pensavo era il mio ma poi no vibrava ancora c'è una preparazione a livello fisico è fatta durante la settimana anche per la forza G si chiama giusto sinceramente no anche perché cioè sì dovrei dirti sì e dovrei tirare ancarti dire è vero che tanti fanno una preparazione è vero che per esempio se ti fermi durante inverno bastano 3-4 settimane quando rientri anche se ti sei spaccato di palestra e tuo corpo non è non è abituato più e primo giorno sempre dopo inverno è una roba assurda ti fa male tutto e poi il corpo si abitua e vai vai sereno però in passato la seconda gara dell'anno o terza in base all'anni era sempre Malesia Malesia un umido pazzesco caldo bestiale ma quando vai là a marzo che qua siano 10 gravi in Europa è devastante se arrivavi a Malesia e finì l'anno dopo tutta stagione eri molto più preparato ma era una roba devastante un po' come Qatar cioè non ero quello assurdo è ma assurdo ma guarda che secondo me ma io non so perché non posso giudicare perché non c'ero a Qatar però sono sentiti male tutti tutti ma anche all'epoca si sentiamo male tutti ma nessuno parlava è meglio la Formula 1 di oggi o quella del cioè tipo se non sbaglio quando correvi te c'erano 3.000 10 cilindri aspirate le macchine V8 ah V8 comunque c'è solo il sound sì no sound assurdo manca in Formula 1 cioè io ma non solo sound e anche il peso ora macchine pesano 200 kg in più 200 kg all'epoca se tu alleggerisci una macchina di 10 kg sono 3-4 decimi al giro cioè 100 kg sono 4 secondi è una perché la fanno più pesante rispetto a primo sicurezza ok che è un topic molto importante non da sottovalutare e FIA sta facendo veramente tanto non solo su diciamo macchina ma anche le piste e ovviamente puoi dire qua io all'epoca quando correvamo c'avevo un ghiaio intorno adesso tu esci fuori pista e c'hai asfalto perdi 3-4 decimi rientri non ti succede niente quindi è cambiato anche modo di correre sicuramente le piste con vie di fuga ad asfalto ti invita un di più a rischiare e ti rendono più sicuri però non hai più quel non devi tenerti più quel margine o comunque ti senti ti senti come se fossi su un piazzale è è è cambiato tutto un po' però il peso principalmente sicurezza macchine sono molto più grandi ma parliamo di una 500 è un ma quello si no si percepisce anche dalla tv si vede si però se tu metti una macchina di 15 anni fa ed oggi è una roba piccato è la larghezza no no ma una roba sarà 40% più grandi le gomme sono molto più larghe il motore o comunque ora che si chiama power unit quindi è molto più complesso peserà tre volte tanto quindi sai metti peso metti halo solo le gomme praticamente da 18 pollici che è stato un altro cambiamento che ha fatto aumentare il peso ogni anno tu metti 10 15 20 kg e ti ritrovi a dover sopportare che poi è un topic che secondo me io ho vissuto molto sulla mia pelle perché sono stato via la forma 1 per tanti anni e quindi nella mia testa ho guidato le macchine che pesavano 620 kg e poi mi sono ritrovato a dover guidare le macchine che pesano 750 kg e prima cosa che ho detto pesantissime sai quando corri ogni anno quei 10 15 kg non li senti però sono 10 anni che cominciamo a aumentare di 10 15 20 kg e ti ritrovi a dover guidare io un po' come se guidassi il camion nel lento le macchine non sono belle da guidare poi chiaramente hanno tantissimo carico hanno tantissima potenza perché arrivi con ibrido giro da qualifica arrivi a 1000 cavalli all'epoca avevamo 700 750 però i tempi non è che sono molto diversi qualche secondino c'è però sì ma attenzione qualche secondino su giro secco ma le gare sono molto più lente ma molto più lente quindi i miglioramenti sono solo dal punto di vista della sicurezza giusto no cioè miglioramenti sai è una cosa l'evoluzione no evoluzione sai anche automotive va in direzione di ibrido è tutto diciamo un proprio proporzionato e segue il flusso no alla fine forma 1 costa un mucchio di soldi le case costruttrici devono trovare soldi dai loro capi o comunque reparti del motorsport per fare forma 1 ma poi tu devi vendere quel prodotto no tu programma se tu sei un principal team principal del potenziale team forma 1 o dell'attivo tu devi avere un budget grosso ma devi andare su e devi capitare lo devo andare e quindi cerchi sempre di allinearti un po' a quello che sarà il futuro speriamo che io non sono contro diciamo macchine sportive o comunque da pista elettriche e speriamo che forma 1 formula E non ti piace no anzi ho avuto qualche ho avuto varie proposte e ho rifiutato anche un sacco di soldi ah si proprio no non lo fa diciamo che per te è come il calcio femminile tipo no no adesso adesso questa questa no però sto guardando qua bello abbiamo il discorso però anche perché ero in una fase della mia vita che era particolare quindi per me un mezzo da pista o comunque mezzo competitivo deve fare rumore io mi ricordo quando ero piccolo quando ero piccolo il mio babbo ho un ho un assomiglianza però è brutta da dire è un po' come fare sesso con bambola gonfiata che non fa rumore che la tesla va velocissima non l'ho mai fatto però ma cioè io l'odore di benzina tu vai di go-kart ma non solo di go-kart quando io mi ricordo quando passava ero terzo pilota mi mettevo là in 2006 in pitlane quando passava il Renault di Alonso con c'hava quel profumo che mi ricordava il go-kart perché certi oli o comunque certi lubrificanti fanno di una marca una marca francese in passato facevano quel preciso odore castro no è francese anche il go-kart quando mettevi elf facevi miscela era una roba impressionante sì 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 no ma comunque sì anche io sono d'accordo più che altro il sound il sound adesso due giorni fa mi ha mandato c'è un video di un di arrivo a bus stop adesso non si chiama proprio bus stop a spa arrivi veloce fermi praticamente arrivai in settima marcia 300 all'ora e ti fermavi a una curva a una chicane molto lenta e mi ha mandato il mio capo di squadra che corre adesso il video del 2007 che è famoso che gira un po' che si sente cioè praticamente butti giù cinque marce in un secondo mamma mia e senti i motori giravano 20.000 20.000 no ma c'era assurdo ora non so forma 1 arriverà non so a quanti decibel ma non tantissimi adesso adesso tu parto la sessione tu sei in hospitality non senti le macchine a me guarda mi ricordo quando a Imola o a Monza quando ero piccolo che mi portavano cioè te già da chilometri chilometri li sentivi io nel 2000 stavo vicino Monza a Lissone con birre quando abitavo se c'era il vento che tirava la parte giusta che saranno al circuito 6-7 chilometri sentivi forma 1 provare bellissimo era un'altra cosa perché senti mi hai detto del 2007 scusa no volevi di qualcosa poi ci riscontriamo c'è un'altra domanda da ignorare che abbiamo tante vai 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 con quelle perché per i miei amici ignorati non sono ignorati non hanno conoscenza della materia ci sta quanto costa correre in Formula 1 più che altro perché so non so se è vero che ci sono dei piloti che pagano per correre ma il costo non ha un costo salutiamo Stroll non ha un costo quanto costa hai parlato di milioni sì va bene il team di Formula 1 adesso c'è il budget cup quindi il tetto del budget no sì ma quello dai parliamoci chiaro dai cioè poi ci sono c'è di facciata no no cioè poi è vero anche come fai a dimostrarla quella roba lì ci sono controlli come tutto però è vero anche che tante cose sono fuori che non si dice appunto molto cioè tipo adesso magari mi sbaglio ma primi cinque contratti o stipendi più grossi della squadra non sono inclusi anche perché se tu budget cup 150 milioni e ne dai 40 o 60 o 50 e quindi sono fuori tutte diciamo intorno marketing fuori quindi però è vero che c'era all'epoca il team top team non c'era un budget quello che serviva si arrivava a 500 milioni e lì ovviamente chi ha più soldi poi tornando al discorso alla domanda tua è vero che anch'io poi nel 2019 non lo nascondo sono arrivato in forma 1 con lo sponsor però non era un soldi miei poi è vero anche che sono arrivati in forma 1 piloti che spendevano i soldi del padre e là è un compromesso poi il costo non c'è dipende dalle situazioni dipende da quanto sei bravo però anche è vero che il team più piccoli se per esempio io tu sei tre 10 in più lento al giro di me però hai un sponsor che ti porta 30 milioni in più di te quei 30 non diciamo che vanno 30 nel sviluppo perché se no soldi non servono qualcosa va sviluppo qualcosa va in tasca qualcosa va di qua qualcosa va già però se tu dai a ingegneri 10 milioni per sviluppo quei tre decine le recuperano in un mese è vero e quindi ti ritrovi a dover dire ok io tu mi riporti 30 si Robert va forte ma non c'è nulla e alla fine della fiera in un anno se tu non sbatti perché poi e se concretizzi tu vai più forte di me senza soldi però attenzione c'hai il compagno di squadra se tu vedi c'è pochi team che c'è sempre qualcuno forte in squadra e che praticamente questo è tutto vantaggio poi ovvio usano i soldi del secondo pilota per il primo fondamentalmente no va bene per il bene del team però questi sono i casi degli esempi si esempi poi io dico sempre ci sono stati piloti tra parentesi paganti e purtroppo e purtroppo è rimasta etichetta di pagante ma andavamo bene e c'hai sempre per esempio cosa vuol dire che se Alonso quando è arrivato in Ferrari ha portato dietro con sé Santander che vuol dire è un pagante no no e allora se uno arriva e porta un sponsor dietro si se non va è pagante però se va va bene così è un po' c'è sempre un po' però diciamo che in linea di massima solitamente chi ha bisogno di pagare per accedere alla Formula 1 non è questo grande fenomeno solitamente è così però è anche vero che è difficile arrivare se tu vedi ci sono mediaia ma vabbè poi centinaia di piloti che probabilmente potevano arrivare in ultimi mediaia anche in ultimi dieci anni di capacità però devi trovarti il posto giusto il momento giusto e sfruttare le occasioni la cosa incredibile della Formula 1 è anche questa che ci sono centinaia di migliaia di persone che amano il motorsport nel mondo e solo 20 solo 20 posti ci sono disponibili cioè quella è una roba pazzesca e tra l'altro di questi 20 posti io penso che almeno la metà sono piloti che rimangono lì per anni per anni per forza ma anzi anche di più il ricambio non so non faccio statistica però mediamente c'hai un sedile all'anno forse anche meno no no forse c'hai anni che non cambi quindi magari la media sarà quella e quindi la competizione è alta poi difficile che tu entri con top team eh no è difficilissimo quindi ti ritrovi a dover trovare supporto per il team quindi anche quando arriva uno forte di programmi junior no perché in passato non c'erano così tantissimi adesso tutti i top team hanno loro academy attenzione è sempre là non si parla che paghi però magari io sono pilota di un costruttore c'è un team privato o comunque team più piccolo ti do sconto sui motori o ti do motori gratis e tu metti il mio pilota per fargli fare esperienza però alla fine io dico sempre che in 90% dei casi comunque chi ci è arrivato non è che ci arriva anche di più cioè gente che comunque va poi chiaro tu vedi Marziani come Verstappen come quello è Marziano Marziano Hamilton Alonso eh se uno si becca mezzo secondo però la verità è che se te ti becchi mezzo secondo e hai in mano una Red Bull finisci comunque sul podio e anche se sei debuttante sei un fenomeno se hai in mezzo in mano una Williams o qualsiasi team più piccolo che fai fatica a entrare nei primi 15 se te ti becchi mezzo secondo la tua squadra sei ultimo chiaro è peggio più la macchina è lenta più difficile da guidare più per debuttante è difficile tu devi avere veramente fortuna di ritrovarti in un posto giusto in team giusto e avere macchina facile da guidare se la macchina è amichevole tu comunque il tuo debutto l'hai fatto con la BMW quindi insomma era una bella scuola attenzione era primo anno sì però era difficilmente entravamo nei primi 10 comunque il podio devo dire terza gara a Monza ho fatto podio e inaspettato sì Monza 2006 faccio qualifiche la si qualificava con il benzina che dovevi partire che c'erano ancora più stop rifornimento e che adesso partono con pieno arrivano scusa arrivano tutti partono con pieno quindi potevi fare strategie diverse io ero abbastanza carico di benzina parto faccio una bella partenza mi ritrovo terzo avendo vantaggio di strategia a un certo punto perché stavo fuori più lungo comunque per fare la storia corta per metà gara avevo massa dietro Ferrari sì per metà gara penso 60% di curve mi sventolava un bandiera blu sai che cosa vuol dire bandiera blu? perché bandiera blu? è che sei doppiato perché ma non era vero? no perché ferraristi magari i commissari sventolavano bandiera blu così magari mi ingannavano assurdo adesso non è più non è fattibile non lo puoi fare ma mi sembra assurdo anche all'epoca però la verità sai quante volte bandiera blu bandiera blu che bandiera blu io giravo tanto con forma 1 ma non correvo cioè era terzo gran premio stavo vedevo massa a Monza arrivi all'epoca arriva a 350 360 a fine rettilineo e io non avevo bene preso misure delle specchietti perché comunque specchietto al di là che non si vede niente no no è inutile quasi sì quasi comunque devi vedere ma vibra tutto mi ingannava la distanza quindi cosa ho scoperto cioè c'è sempre un schermo grosso maxi schermo all'uscita della prima variante e quindi io guardavo ho capito che era più lontano di quello che io credevo nei specchietti capito infatti tante volte sai si esaltano che magari vedi i piloti che commentano c'era Alonso Miami quest'anno che ha commentato su un sorpasso di stroll mentre guidavano sì ma si fa quando si vede schermi tanto cosa vuol dire andare 360 Canada 2007 ehi aia Canada 2007 bella botta lì lì secondo me se tu rivedi anche adesso immagini dici come è pazzesco come è possibile esatto si guardava prima si può dire come cazzo è possibile una cosa ti vorrei chiedere dopo un incidente così pazzesco non si è influenzato a livello mentale sulle prestazioni in futuro cioè non è che rientri con più paura no 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 perché perché quando guidi non c'è spazio cioè sei talmente focalizzato concentrato su quello che devi fare che non c'è spazio per per nessun'altra emozione paure niente niente io secondo me tutti i sportivi quando sono al massimo della loro diciamo capacità della loro forma e stanno eseguendo realmente 100% stanno dando realmente 100% di se stessi non hanno non c'è niente è come se tu fossi una macchina programmata cioè non ti segna a livello mentale una roba io dico sempre che incidente del 2011 quello grosso che ho avuto nei macchine rally mi ha cambiato parecchio come persona e facendomi molto più emotivo vivo più emozioni io mi reputo pre-incidente una macchina e io ero programmato era una roba ma non so se sono solo io però io posso dire quello che vivevo io no nessuna paura quindi avere più emozioni la vedi come una cosa negativa a te no vedo nella vita come una cosa molto positiva perché secondo me quando vivi emozioni e le controlli sei una persona più forte e comunque è naturale vivere emozioni e essere consapevoli avere padronanza di diciamo di di te stesso però a certi livelli quando abbiamo detto all'inizio essere un po' egoisti a certo a certo livello per essere per dare il massimo cioè tu sei come se fosse nel padro di forma 1 quando corri è come se tu fossi un piccolo pesce e ci sono squali che ti vogliono mangiare specialmente all'inizio cioè io dico sempre arrivare in forma 1 è estremamente difficile ma rimanerci ancora più ma questo diciamo dal tuo punto di vista però le persone che ti sono vicine familiari che ti dicono cioè ti dicono guarda smetti basta oppure ti abiscono no ma non possono dirlo perché sanno che io vivo per quello smetti cosa smetti te va beh io ti dico io cioè sai è successo ma è normale no cioè mia mamma alla fine ha vissuto di tutto di più io quando io secondo me li ho li ho dato li ho fatto un un periodo della vita li ho servito un periodo della vita bruttissimo per me ma per loro cento volte peggio ma immagino loro col cuore in gola tutte le volte quando 2007 che non si sapeva niente perché praticamente se tu vedi immagine dici questo l'ho spapolato in mille pezzi e la verità è che sono arrivato sono arrivato in ospedale anzi mi ha dato più noi all'elicottero che li odio e andare in ospedale che l'incidente arrivo in ospedale primario mi fa come va come va io dico no no un po' male al piede ma questo è 2011 no 2007 anche lì anche il 2007 si è andato via in elicottero non mi ricordo ma io eri illeso però ho capito ma tu vedi immagini che pensi immagini io ho detto incredibile illeso fino a certo punto perché a me mi si è spento tutto cioè quando 250 all'ora contro un muro ah no quello la macchina non c'era più io ti dico succedeva dieci anni prima mi ricordo le immagini che ti hanno portato via in barella quello si io mi sono ripreso un attimino quando mi faccia uscire la macchina che c'è una procedura perché a me la macchina la macchina la scocca perché niente è rimasto era appoggiata sul fianco e quando mi estraevano io ho sentito il caldo dell'olio o dei liquidi che sono usciti e là che mi sono un po' ma non è però io arrivo in ospedale e un po' chiaramente una botta del genere il primario mi fa come va come va io dico no ma ho solo male a caviglia a piede tutto a posto dammi un ochi no si no questo dice beh questo è svalvolato c'è dopo una botta così è svalvolato attenzione faccio tutti x-ray tac tutto mi fa guarda bisogna rifare perché ah perché io ho visto immagini bisogna rifare non è possibile rifare guarda non hai niente ti teniamo se non avessi visto immagini mi fa ti lasciai libero ho dormito mi hanno fatto dei vari al 5 di mattina mi svegliano io un po' rimbambito al 5 di mattina che dei test sai per se sei cosciente se cammini dritto tutto a mezzogiorno devo mangiare ristorante italiano tra l'altro incredibile perché davvero se vedi le scene le immagini dell'incidente è impressionante prima volato no ma la fortuna la fortuna è stata io penso che io ho preso spiccato il volo praticamente io sono mi sono toccato con Iarno Trulli ti saluto grande Iarno l'ala è andata sotto quindi mi ha alzato l'asse anteriore le ruote quindi io posso girare il volante quanto è la macchina esco dalla pista prendo tocco la via che era là per fare entrare i mezzi che recuperano le macchine e praticamente questa mi fa lanciare in aria ma meno male perché la forza si è distribuita sotto la macchina se io andavo pari lanciato proprio si è cartocciava no ma la bella scena la foto di Scott Speed che era pilota di Formula 1 all'epoca di Toro Rosso che si era fermato là c'è la foto che lui praticamente là c'era il muro sulla macchina dietro lui seduto con le gambe appoggiate al muro così come in spiaggia che guarda e praticamente è perché nessuno ci pensa che cioè era eh sì poi è tutta roba che succede in una frazione di secondo poi quindi sì no ma poi un incidente simile anche a Lonzo non mi ricordo l'anno Australia Australia sì ma è diverso ma anche lui presi un po' il volo sì perché si è toccato la ruota la ruota con Emmett non so con chi però però là sai io dico sempre purtroppo ho anche esperienza di capottamenti nei rally ne ho fatti purtroppo un po' troppi finché tu capotti è l'incidente più sicuro che ti puoi avere è più spettacolare ma le forze si calano gradualmente peggio che tu puoi avere è botta secca quello che purtroppo è successo a Jules Bianchi a Suzuka che alla fine quello non puoi sapere non puoi cioè ci sono forze G che il mio incidente non so 70 80 90 G chiaro chiaro è una roba che tu a 3 G svieni normalmente anche forse il peggior incidente gli astronauti arrivano a 10 sì ma allenamento cioè una persona 70 sì che è certo è un picco una frazione di secondo cioè Formula 1 quando la guidi arriva a 5 G curve veloci lunghe sono 4-5 secondi ma reggere 4-5 secondi e poi picchi delle botte quello è un altro comunque il peggior incidente che hai avuto sicuramente è quello del 2011 infatti ne possiamo parlare perché non ci sono non ci sono video non ci sono video no io non ho trovato video su quell'incidente video c'è ho trovato video di quello che arriva dietro e si vede la macchina c'è il mio camera car ma dov'è io non sono riuscito a trovare quel video no ma non c'è esiste ma non c'è ok ok e com'è andato l'incidente hai sbagliato qualcosa a te quando picchi di solito non è che sbagli per colpa degli altri giustamente poi se la ride però è la verità e com'è andato sinceramente mi ricordo poco perché io sono rimasto in coma tanto tempo sono arrivato in ospedale con un litro e mezzo di sangue di sangue non so corpo umano ne ha 6-7 no alla fine ce la ridiamo finché se ne parla però era un periodo difficile e là tornando al discorso dei familiari per chi era fuori dalle sale operatorie io ho fatto dei interventi al di là di quei primi che sono arrivato veramente secondo me me l'hanno preso per capelli ero tutto tutta la parte destra ero spapolata cioè io ho avuto 42 fratture forse questo numero non lo sa non l'ho mai detto ufficialmente però io ero dal dito dal dito del piede a praticamente il gomito tutto spapolato poi veramente era una situazione grave ho avuto dei interventi primi interventi duravano 12 ore 10 ore figurati io mi danno una bella dormita mi svegliavo dopo 12 13 ore sì tutto un po' così però immaginati chi sta fuori sala operatoria per quel tempo e che è stato un momento della mia vita perché poi alla fine noi parliamo di me come sportivo come pilota però alla fine io sono umano che mi ha fatto da un lato aprire gli occhi fino a certo punto perché poi alla fine mi metto in macchina guido quindi uno dice tornando al tuo discorso di prima hai paura no anzi e la mia vita corre però ho vissuto due anni un anno e mezzo che veramente erano tosti però è stato brutto poche persone forse lo capiranno è stata un periodo difficile ma sì però ti fa anche pensare io 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 non sono uno che legge anzi quando andavo a scuola che dovevo leggere compravo sai quelli libri che ti ti riassumo arrivavo decima pagina annoiavo anche il riassunto il riassunto forse dovevo leggerlo però era veramente scarso su quello però posto incidente io sono mi sento una persona diversa dal livello umano di emozioni di tutto il resto non dico che sono una persona brava o meno brava più brava però diverso mi sento diverso e ho letto un po' di articoli un po' di c'è un libro non ho letto tutto che spiega sta cosa perché io prima ero destro quindi attivi una parte di cervello e quindi adesso sei mancino per forza gran parte delle cose sono mancino la mano destra non riesce proprio più sì vabbè io faccio però allora io post incidente no io riesco a guidare infatti ma io però hai degli accorgimenti per te oppure no io ho sviluppato dei compensi nel tempo chiaramente gradualmente e mio cervello io ho imparato di vivere come sono adesso se tu mi chiedi adesso di comparare o di fare un paragone al passato io non mi ricordo e meno male è stato uno dei miei la chiave del recupero al di là fisico che è stato iniziale ma poi c'è stata una bella botta psicologica comunque di dover accettarti io mi svegliavo di notte io mio cervello non accettava rifiutava i miei limiti ma è la verità io mi svegliavo di notte con delle robe assurde nella testa perché ti senti una cosa estranea cioè al di là dei limiti comunque io ho perso tutta sensibilità io per sei mesi sette mesi non muovevo niente cioè io ho troncato tutti i nervi è stato lunghissimo cioè io mi ricordo per due mesi cercavo di muovere dito dito non si muoveva una sensazione solo chi ha vissuta può capirla cioè tu pensa adesso che tu cerchi di muovere e non si muove il giorno io mi ricordo un giorno che ho accennato un movimento per me era come se cioè e ti fa capire che comunque riassunto è quello che sono primo a alzare la mano tu vivi e sei incazzato perché c'è il raffreddore e sei incazzato perché ma alla fine siamo tutti fortunati io ho vissuto realtà in ospedale che nonostante erano condizioni pessime gravissime ma c'era gente cioè io comunque ho avuto fortuna e tanta gente non ha avuto e quindi non voglio adesso sembrare quello è però la verità è quella la verità è che c'è c'è tanta gente che non ha avuto questa fortuna vero vero no sono d'accordissimo una cosa che mi mi incuriosiva no tu quell'incidente lì nel 2011 l'hai fatto ovviamente correndo nei rally però mi dirai perché no nel senso eri comunque in quel momento correvi in Formula 1 no ma cioè la scuderia ti permetteva di allora la verità è BMW no infatti dipende dalla scuderia il BMW no cioè non puoi fare altro no la verità è che io volevo fare rally per trovare qualcosa che mi migliorasse me stesso per trovare qualcosa che io sentivo che se riesco a fare rally posso avere vantaggio sugli altri attenzione 99% dei condizioni no però se comincia a piovere io sono con le slick sensibilità che ti dà mondo rally devi acquisire ora ora tu comincia a piovere bandiera rossa Monte Carlo rally Monte Carlo tu entri in prova con le slick cominci a nevicare sono cazzi tua devi portare a fine prova non c'è nessuno che ti dà bandiera rossa fermi tutti e io sentivo questa necessità quasi di trovare qualcosa perché io volevo essere migliore poi c'è chi dice che me la cavavo bene io dico sì benissimo penso di essere stato nei miei anni diciamo d'oro 2008 2010 uno che poteva dire la sua e avevo punti forti secondo me però ero sempre alla ricerca di migliorarmi la perfezione uno cerca sempre di trovare qualcosa che gli altri non ce l'hanno è un essere umano e quindi mi sono ritrovato a poter correre rally ma la lotus lo sapeva che la renault sì uno dei primi punti che ho negoziato con flavio era proprio questo era che potevo fare rally però arriva brutto la verità poi sembra sembra scritta non credevo che flavio permettesse perché l'ho sempre visto come uno molto duro ma sì guarda guarda renault all'epoca che team base handstone che poi ha cambiato i nomi benetton renault lotus alpine adesso sono orientati racing e attenzione vengono dai periodi che avevano dei campioni ultimo prima che arrivavo io era ovviamente fernando alonso io non mi ritengo campione però lui ha vinto due campionati del mondo e spesso quando tu sei campione puoi fare quasi tutto cioè io mi ricordo tempi BMW se non mettevo la maglia se per caso entravo ma andavo a correre è successo sono andato a correre a Monza senza la maglietta BMW no attenzione no vado a correre alle 8 di sera a buio arrivavo da Turchia mi ricordo da Istanbul prendo prima maglietta dalla borsa me la metto dovevo aspettare un ingegnere per 15 minuti questo hai test vado a correre mi arriva warning cartellino giallo perché non avevo la maglietta Puma poi vedi Hamilton hai detto fa cazzo che vuoi quindi capisci quindi alla fine sì sapevo cioè Flavio aveva bisogno comunque Renault aveva bisogno di sostituire Fernando che andava in Ferrari e non erano messi bene anzi erano messi abbastanza male partino penultima fila quando tu parti per penultima fila con Fernando difficile trovare uno forte che vuole andare là però la verità è che mi lasciava andare ma attenzione il rally che mi sono fatto male doveva essere mio ultimo perché perché anno dopo io sapevo che non potevo più fare il rally perché avevo già firmato con un team con la Ferrari con la Ferrari ma poi che è successo e dove perché non sei poi andato ero spabolato dove vuoi che vada un attimo di ma infatti te inizialmente come l'hai presa però però anche là nei rally di Andorra io ero a Valencia giorni precedenti che era primo test precampionato che tra l'altro qualcuno anche ultimamente mi ha ricordato dato che ero più veloce ma vabbè i test non contano niente e io mi sveglio mercoledì ero secondo giorno di test mi sveglio mercoledì ho sensazione strana e dico io devo tornare dai test sarò stanco qua vai a fare il rally ma chi chi me lo fa fare chiamo chi mi portava il team che mi portava la macchina l'ho sentito totalmente tanto entusiasmo perché praticamente era un ripagarmi perché io avevo affittato la macchina da loro per rally ma mi fermavo sempre cioè tipo tre gare di fila mi sono fermato per problemi tecnici della macchina quindi per loro perché si sentivano in colpa mi hanno offerto sta gara qua io lo chiamo per dire che guarda lasciamo stare lui dice ho chiamato già Pirelli viene porta un legomme proviamo ho chiuso ho prenotato la strada per il test sai va bene dai facciamo capito e ti robert qual è il tuo circuito preferito forma 1 suzuka suzuka però in assoluto macau macau non è forma 1 no si correva e che tra l'altro torna quest'anno una specie di gara forma 3 che arrivavano tutti i vari campionati giapponese europeo tedesco inglese in quel circuito di macau che praticamente è un cittadino pazzesco si non l'hai mai visto no ehi mamma mia una roba assurda si davvero io dico sempre scherzando ma no ai piloti che corrono che se vogliono diventare piloti veri devono girare a macau no tu devi metterlo in curriculum perché se no non hai vissuto motorsport a pieno veramente ora mi hai incuriosito tantissimo è pazzesco devo andare a vedere invece quando eri anche piccolo così magari poi durante la tua carriera eri te stesso ma quando eri proprio piccolo e guardavi la formula 1 avevi un idolo non stai attento vedi perché perché quando ero piccolo non guardavo la formula 1 perché prima avevo detto che è un po' scherzo quando eri prima di approdare la formula 1 avevi un qualcuno no nessuno c'era un campione allora simpatizzavo magari con qualcuno la verità è che io forma 1 prima approccio diciamo da vicino era quando avevo 12 anni sono andato a vedere con l'autobus con mia madre in Ungheria e gran premio dell'Ungheria del 97 però allora quando giocavo a Playstation prendevo sempre la macchina più scarsa ecco però a me piacevano anche i rally quindi vabbè Tommy Macchina Carlos Sainz che non è Carlos Sainz ma il padre magari scherzo no padre di ovviamente di Carlos che corre era un grande nel rally sai io vengo da un paese che comunque c'era tendenza cioè più cultura realistica e specialmente all'epoca abbiamo sempre avuto bravi piloti del rally quindi diciamo il rally era molto più popolare è chiaro ma per te il rally o Formula 1? è diverso è molto diverso è difficile dire però la verità è Formula 1 è il massimo del massimo è quasi impossibile a a spiegarlo rally attenzione quello che ti dà la macchina rally secondo di è molto è più piacevole cioè ti fa sentire un po' più pilota forse un po' super eroe esatto cioè fai delle robe ma perché parte tutto da costruzione e da necessità che ha bisogno una macchina rally macchina pista ovviamente Formula 1 al massimo livelli è esasperata è la ricerca di di ultimo millesimo centesimo e guidabilità zero pari a zero vabbè hai bisogno di guidabilità però quando sali specialmente un pistaiolo nei rally ti senti tra parentesi un dio cioè tutto ti viene più facile a fino a certo punto chiaramente perché poi per essere un bravo rallyista ce ne vuole Sì io se devo dire la mia a me piace la Formula 1 invece proprio per quello perché non è solo il pilota ma è proprio tutto quello che ci sta indietro che ci sta intorno cioè 150 persone non so quante persone sono all'interno di un team un centinaio sono in pista no pista sono limitate no 1500 due appunto 1500 persone che cercano proprio anche il minimo dettaglio cioè quello per me è pazzesco no vabbè in Formula 1 noi vediamo vediamo solo la punta ma poi tu in pista alla fine non è che tu puoi fare io dico sempre il team operativo in pista le persone che vediamo come fanno girare la macchina in pista non sono persone che fanno vincere loro devono massimizzare il pacchetto ma chi ti fa vincere sono a casa la gara vera succede in fabbrica in sede sviluppi quante volte arrivava un pezzo che ti faceva andare più forte se arrivava quel pezzo due o tre mesi prima per esempio 2008 anche 2010 io avrei vinto molto più gare e tu dici ma cazzo non ci potevano arrivare prima e invece è una roba pazzesca durante un anno specialmente quando ci sono regolamenti nuovi sviluppo della macchina tu hai miglior macchina prima gara partiamo prima fila se i nostri progettisti non fanno niente ultima gara partiamo ultimi ma ultimi ultimi è assurdo Canada 2008 invece è andata bene un po' diversa del 2006 esatto poi un anno dopo stesso circuito io credo un po' nel destino e ci sta prima vittoria in formula cioè voglio dire come è bello però però se devo essere sincero e come ho detto prima non è che me la sono goduta tanto ma perché? perché io ero orientato test alla prossima sì ma no la prossima io martedì mattina ero unico pilota titolare alle 9 del mattino a scendere in pista a Barcellona a fare tre giorni di test il giorno dopo eh vabbè domenica martedì mattina no martedì bravo tu unico goditelo un pochino hai vissuto per quello ma sai all'epoca sei un treno che viaggia e fermate zero e poi c'è sempre un balance non bisogna trovare secondo me ora ho qualche anno in più purtroppo e qualche capello in meno che era un po' forse troppo cioè potrei fare stesso ma me la godevo un po' di più anche Fernando ha detto una cosa simile ultimamente sei molto amico di Fernando sinceramente ultimamente abbiamo perso un po' contatto però massima stima eravamo parecchio amici cioè e secondo me parte tutto dal 2006 al di là del del carattere forse anche di livello di guida eravamo parecchio simili nel 2006 tu potevi farti di due gomme cioè è come se tu vai oggi fatti la tua camicia su misura ma ogni gran premio e due che si avvicinavano come stile di guida e era particolare con le mission eravamo io e lui infatti missioning poi alla lunga quando lui non provava non c'era spesso guardavo i miei dati per per vedere cosa potrebbe andare bene per lui eravamo una guida veramente particolare oltre all'automobilismo al motorsport hai altri hobby ciclismo ciclismo davvero ma lo fanno in bicicletta sei abituato a un formula 1 quando vai in bicicletta no bello però così ci vai in passatempo insomma o lo fai proprio a livello no io sono un ciclo amatore e vado in bici che è diverso di malati che si allenano io non mi alleno io vado faccio tanti chilometri cioè faccio 15.000 chilometri in bici all'anno ogni volta quanto ne fai tipo ma stamattina dovevo essere fresco qua quindi ho fatto 75 75 chilometri vabbè due orette e mezza così però io sarei tipo all'ospedale con l'ossigeno allora la bici la bici è la verità che è sempre stata mia passione anche da Pico i miei genitori mi dicono che veramente ho cominciato ad andare in bici prestissimo e mi ricordo io andavo in bici fino a quando non sono venuto in Italia poi un po' sparita ma non è solo passione per me la bicicletta è stata la miglior medicina che io ho avuto posto incidente quando mi sono messo cioè io ero 88 kg ero 66 e però mentalmente quello che ti dà la bici spesso mi chiedo ma chi me lo fa fare sei là che fai fatica comunque devi dedicarti dedicargli parecchio tempo però è una cosa veramente bella cioè secondo me ciclismo in tutte le salse è una cosa che veramente cioè inviterei a tutti a farlo e post covid tanta gente ha iniziato sì sì è vero perché ti dà un benessere particolare è difficile da spiegare però difficilmente chi comincia vedi che non lo fa più anzi diventa una cosa una droga sì ti senti male se non lo fai non ho mai provato quindi non posso dirlo però al di là di gran medicina e tutte le bombe che ho preso quando ero quando ero più di là che di qua e e sì stai bene poi quando una cosa stai bene la devi fare quando stai bene quando si fa stare bene esatto io sono mi sono reso conto che sono uno post incidente a cercare di semplificarmi la vita non vuol dire andare fare scorciatoie però se posso fare una cosa in una maniera cerco di farla se perché complicarmi mi sono già praticamente complicato parecchio la vita in passato quindi il ciclismo mi dà questa cosa mi fa stare io sono mi piace mangiare quello a tutti maggiare bene sì vabbè chiaro però non tutti vabbè non ve lo dico ma io conosco uno che mangia solo perché non ha piacere di mangiare perché deve nutrirsi sì perché lui io quando ha preso covid che non dico il nome è mio compagno di squadra prende covid mi dice al telefono non sento niente io dico cazzo che brutto brutta sensazione mi fa ma sinceramente ma a me non me frega niente mangio solo per stare in piedi beato te a me piace mangiare quindi per forza poi devi allenarti di affari oltre invece a hobby hai anche altre attività tue lavorative oppure no a parte a parte no sinceramente dedico tutto tempo a quello che fa al motorsport la verità è che per esempio tu sei andato in go-kart io faccio il kart con il mio nome e devo dire sinceramente non ho mai riscosso un euro perché era una passione e mi sono lo fa Birel ma sono telai Birel all'inizio era quasi al contrario ah ok prima omologa io ho omologato completamente diverso telaio poi Birel l'ha copiato pensati perché i piloti l'hanno provato e si è trovato bene sì ho fatto tutto io tu all'inizio hai detto camoncino tutto da solo io facevo io sono un amante di cercare fare le cose semplici e anche se vivo un mondo mi rendo conto complicato io le cose naturali così semplici mi piacciono i vitelai che fanno ora non mi piacciono per niente sono orribili quelli dei go-kart ma perché non l'hai visto mio dai pancione erano più belli prima erano dinamica eh lo so ma esteticamente però sì poi conta giusto esteticamente mi piacciono più quelli di sette o otto anni fa vabbè sì forse non so però vabbè sì ma poi quello che conta è che vanno più forti io dico sempre quando quando sei facciamo presentazioni del team ti dicono ti piace la macchina io dico la macchina deve andare forte una volta sei dentro può essere anche rosa poi hanno fatto rosa a racing point quindi però la verità è quella sì sì è vero ti faccio dieci domande risposta secca facciamo a tutti x o y ok poi mi devi dire uno e l'altro roba se c'è tra l'altro c'hai già un po' risposto allora partiamo ahia ahia vabbè formula 1 o rally c'hai già detto però ne devi scegliere una per forza dai formula 1 fernando alonso 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 anche se alonso ma per una questione di amicizia o di bravura come pilota questo se lo chiedo secondo me alonso con la macchina non competitiva è più forte di tutti il più forte di tutti più forte di Max Verstappen macchina non competitiva sì perché attenzione forma 1 tu vedi io dico sempre forma 1 prime due tre file è un sport forma 1 quando corri indietro non sei bravo con quelle macchine lì dai il massimo a me mi è rimasto impresso ultimamente Singapore Red Bull non andava non andava Verstappen finito quarto quinto prove liberi ha detto macchina guidabile fa schifo con tutto il rispetto io sono fan di Max e mi ha fatto vivere una emozione che da pilota io non tifo nessuno però quando lui ha debuttato a Barcellona con Red Bull che ha vinto io avevo per le doc perché uno giovane così che aveva Raikkon indietro che ha gestito sotto pressione la gara impeccabilmente cioè io essendo pilota dico cazzo questo 17 anni fa paura fa paura io penso che possa diventare il più forte di sempre ma fa paura anche grazie al papà perché io dico non è che fa paura grazie al papà però se tu hai uno ex pilota di forma 1 che è tuo padre io ho 15 anni che ne sapevo se io avessi figlio che non è basta che sia intelligente a voglia io penso che riesco prepararlo o comunque riesco dirgli le cose un po' prima che accade invece quando non hai devi imparare su quello che vivi e quello che accade continuiamo male secca non era mica secca vabbè succede spesso Mario Montagna Montagna pizza e birra o ristorante stellato pizza e birra anche se non bevo birra tutti ci dicono la stessa cosa è il segreto del successo si è vero Flavio Briatore o Mario Tyson Flavio Tyson anche se Mario è stato quello che mi ha messo in macchina infatti invece Flavio si gran rispetto Ferrari o Lamborghini intendo stradali Ferrari anche se ho una Lamborghini hai una Lamborghini non lo sapevo che modello STO wow parcheggiata usa pochissimo io ho comprato delle varie macchine e per strada non so perché le compro c'è c'ho due non è che ho mille una è Porsche GT3 RS bellissima comprata nel mio sogno sì anche mio quella io ho del 2008 perché da bambino giocavo con una Porsche e mi sono detto se vinco una gara in forma 1 me la compro bambino però più avanti quando ho gara in forma 1 mi toggo tutto svizio e ho comprata macchina da 15 anni c'ha 7000 km è proprio mai usata però almeno ti sei levato lo sfizio è giusto aspirato o turbo aspirato tutta la vita furgone è diverso rally turbo tutta la vita e invece formula 1 aspirato ok furgone e kart insieme agli amici o camion e squadra con il team corse no no furgone e kart con amici e dico una cosa 2007-8 organizziamo allo Nato una giornata con piloti in forma 1 vari nomi di cui anche Michael Schumacher io mi presento con mio furgone con mia ragazza e io basta con il go kart caricati da me arrivo organizziamo una giornata tra i piloti arrivo vedo i camion bilici di squadre ufficiali e dico bene attenzione però come io sono uno che non mi piace io avevo un motore di cassetta cassetta sai cosa di scatola praticamente il motore che tu compri da produttore senza preparazioni ok ma così banale prendi metto guido però quello che è riesco a trovare delle gomme Dunlop dell'anno prima che era una roba esagerata tipo sei le trovo a Portogallo altre quattro in Svezia mi arrivano tutte perché tipo veramente andavi forte e poi durante il giorno mi arriva Tonio Liuzzi che salutiamo grande grande Liuzzi che era là con lotta perché lui era con CRG e Michael era con Tony grande lotta tutti i motori preparatori scaldano carburazione e arriva Tonio mi fa ma non è che hai un set di gomme dallo lo spaccio di gomme la destina voi avete il camion preparatori tre meccanici però mi chiede le gomme qua sul mio furgone poi come è andata quella gara lì no giravamo così per divertire ma dove vuoi andare cioè per me era però c'è sempre competizione cioè uno io non so altri sportivi ma presumo tutti ma veri campioni qualsiasi cosa fanno vogliono vincere cioè io giocavo bowling ma giocavo per divertimento però giocavo tornei non vincevo però a playstation con gli amici volevo vincere vuoi vincere sempre esagerato rilassati un attimino è così è così Red Bull o Mercedes? eh beh quello che vince adesso Red Bull te non hai non ti sono finita comunque erano 10 ah beh ma meno male mi rilassa ma non hai una scuderia per cui fai tifo? no no niente non hai Ferrari no beh Ferrari te il cerco di allora la verità è una io ti ho detto che non mi ricordo o comunque sono in pace con me stesso post incidente che ci è voluto tanto tempo e e ho fatto switch a diciamo non dimenticare però di vivere la vita attuale non quella di passato che è stato non è stato semplice perché ogni volta che andavo in pista mi si apriva la ferita una cosa che eh devo essere sincero mi girano i coglioni ma ci credi è di eh di non aver mai guidato Ferrari perché? perché forma uno o vinci il campionato almeno io la vedo così o guidi una Ferrari o guidi una Ferrari e sono due cose che uno sportivo un pilota può fare nella vita e vincere il mondiale non hai mai sicurezza non c'è prevedere performance delle macchine non puoi e però la verità è che essendo stato così vicino che era già c'è stato un anno 2009 quando Massa si è fatto male anche che anche là ero vicino a correre già con Ferrari per per suo posto per qualche gran premio nel 2009 però sai una volta hai firmato una volta cioè a me credi che ogni pilota aspira a guidare per la Ferrari ogni pilota cioè comunque è la scuderia un po' di riferimento per storia non so se ogni pilota non posso dirlo perché sarebbe però secondo me per tanti sì ok beh bene dai io direi non so se altre domande io sono un po' partecipi ascoltavo perché comunque intervista bellissima no no scusa no va 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 e io ti rinnovo ancora i ringraziamenti per essere stato con noi ovviamente ti chiedo visto qua tutti lasciano la propria il proprio autografo ma sono tanti io ho visto un po' è un onore no a parte scherzi ci avevate del gente ma che cavolo c'è da dire che di 46 ospiti giusto lui è l'unico che ci ha fatto un regalo sì è vero no vabbè regalo no no è regalo vi ho portato una cosa simbolica per così perché comunque mi ha fatto apprezzatissimo è vero grazie mille si può dire anche cosa mi pare se vuoi lo vado a prendere no che se no la tiri per le lunghe poi sono gelosivi gli altri ospiti ecco la firma di robert aspetta 47esima firma 47esima firma bel numero è vero dove vuoi grande grande eccolo qua mi è arrivato anche guardate che spettacolo per gurulandia ma anche ma come mai sto nome bel nome però gurulandia il guru di ogni settore che sei il guru non sono nemmeno guru a casa mia quindi che guru di motorsport ti piace gurulandia bello bello grande e niente ragazzi grazie mille ancora grazie mille Robert per essere stato con noi e noi ovviamente come sempre ci vediamo alla prossima puntata ciao partito eh ma te voi sapete troppo ciak eccole sono le politiche strane della tua c'è qualcosa sotto ci siamo? ah ce lo dici fuori ombra dai dai ciak a scusate ci ciao